ok a tutti sono sempre io ms striker benvenuti in questo nuovissimo video e oggi sono qui con un nuovissimo episodio del nostro let's play e prima cosa sono andato dai dei nostri amici zombie ho avuto due carote ma questo mi interessa comunque oggi voglio farmi un'altra spada e poi vorrei farmi anche un altro bel piccolo bene incantato intento poi se non ottengo qualcosa di buono cos'è quello cos'è ah gli item frame comunque se non ottengo qualcosa di buono e beh pazienza magari vado a prendere altri comunque aspettate le carote le vado a posare lì dentro poi voglio andare nel nether e voglio cercare di trovare quegli scheletri sento anche uno scheletro non so comunque lo farò off camera significa che non registrerò però quando li troverò vi faccio vedere e cercherò di ucciderli tanti lo so adesso sono le 9 di mattina probabilmente finirò il video alle 11 perché ci vorrà lo so già cosa devo fare ci vorrà un sacco di tempo l'ho già provato a fare in survival in modo a parte comunque per avere le teste di wither ce ne vorrei un sacco di tempo però con questa spada che noi abbiamo è più facile diciamo ci vogliono meno meno probabilità allora poi prendiamo anche un pochino di slime voglio farmi allora mi basta una voglio farmi la pozione la pozione per resistenza a fuoco abbiamo qualche blades qui dovrebbe essere dall'altra parte sì ok allora la prima cosa ci serve anche il cibo ci portiamo questa usiamo questa qui ci portiamo questa perfetto allora so questa spada è bella nuova perché l'avevamo aggiustata altra volta però magari forse la possiamo anche unire magari ok abbiamo preventato di esperienza prima mettiamo a fare la pozione ok qua già ce l'avevo qualche magma qui comunque resistenza a fuoco ancora non l'abbiamo fatta la mettiamo prima netherworld bene poi questa e siamo al posto servono soltanto le bottiglie giusto devo riempire sono stupide ok questo perfetto allora facciamo un pochino la potenza c'è la pozione in cartesimo ah già ci serve prima la strada vabbè meno male che abbiamo questo poi mi devo portare anche un paio di blocchi nether non sia male abbiamo un'altra spada di indiamante bene aspettate è finito ok mettiamo magma cream ok mettiamo questo 28 giusto giusto dopo quello è il massimo vediamo sì ok il massimo è 30 comunque le mie librerie sono disposte in modo da fare 38 ok vediamo se siamo fortunati buono dai smite con knockback bonus poi smite serve per uccidere meglio non morti quindi se ci servirà per leader però sinceramente preferivo un altro looting così potremmo unirli avevamo un looting 3 però già già looting 2 è tanto ok adesso abbiamo pochissimi punti di esperienza proprio fire resistance direi che voglio mille queste spade quindi voglio arrivare a livello vediamo quanto tempo ci vuole cioè quanto allora così e to expensive se mi piace ne metto così to expensive cazzo è troppo pesante dice oh mio dio allora praticamente avevo questa qui ce la portiamo ora questa qui in tal caso troveremo un leader ce la porteremo ha spiegato 28 punti di esperienza ok mettiamo questa spada qua ok mangiamo prendiamo le pozioni e cerchiamo di andare a farci laggare nel nether in realtà non è che il lagge si laggo è vero però praticamente se io non registro laggo quasi la metà fps aumentano di parecchio adesso vediamo anche facciamo anche un test degli fps ok ci serve soltanto qualche blocco abbiamo infinità di blocchi di gabblestone per tutte quelle scavate che abbiamo fatto ok mettiamoci qua vendiamo la gabblestone vediamo quali starai ok andiamo nel nether a giusto in nether sta qua sono stupida ok già so che morirò comunque però i blades così non mi faranno niente ok andiamo lag in arrivo yeah facciamo che taglio perché già sapete che poi adesso laggerà di brutto perché all'inizio quindi la taglio ok comunque ho messo su hard perché così ci sarà meno più probabilità di trovarli comunque aspettate vediamo gli fps 16 14 3 13 c'è praticamente ogni tanto si ferma e arriva a 3 2 1 fps però rimane sempre su una media abbastanza alta considerando che nel mondo normale quando registro sto circa 20 e 30 fps quando non registro sono a 60 qui nel nether devo vedere dopo quando fps sono quando non registro perché non ho mai provato ora andiamo nella fortezza si ma laggerà è brutto però da vedere qual è il brutto ok vabbè dai raga ok è la prima volta sì oh mio dio qua però devo tappare è sempre pericoloso ok oggi è tappato bene raga taglio e ci vediamo quando almeno trovo almeno uno lo voglio trovare almeno uno lo troverò comunque ci vediamo dopo bello non credo a cosa ho fatto proprio qui dove sono sceso sono caduto nella lava meno male che avevo la pozione nell'inventario se no ero morto guardate quanto è utile questa pozione oh mio dio è proprio utilissima se non l'avevo qui ero morto e tutta la mia roba nella lava comunque sono salvato proprio giusto giusto avevo metà vita mettiamone un'altra per sicurezza anche se questa dura 8 minuti oh mio dio sono proprio stupido io come ho fatto a cadere? avevo fatto una laggata assurda e ok adesso dobbiamo salire ho notato che il lag si è levato forse la lava fa qualche effetto comunque con questo fuoco davanti non vedo niente vorrei che tanto che si leva se sei gentile se si leva ma i piccoli diamanti del nether non è il massimo perchè scava troppo veloce ok oh mio dio allora raga ci vediamo dopo oh mio dio raga ne ho trovato uno allora praticamente noi stavamo siamo abbastanza lontani stiamo più o meno da quella parte il nostro portale comunque qua dov'è? qua aspettate mi sono perso come è possibile? qua dov'è stare prima c'era lo sento sta sopra ah mori oh mio dio non ci posso credere non ci posso credere è impossibile non ci posso credere com'è possibile? non ci credo oh mio dio al primo non ci posso credere non ci posso credere oh mio dio io cazzo ho testato con looting 3 in modalità creativa su un mondo super piatto quanti scheleti di questi ci volevano e io più o meno sono stato per 5 minuti a spawnarli sempre tatatatata così e non mi usciva mai non ci credo al primo colpo è incredibile oh mio dio raga questa è fortuna perché con questa spada è vero si che è più facile averlo però non è così è fortuna raga ok meno male che ho registrato volevo ucciderlo senza tanto c'era poco probabile che me lo dava subito comunque adesso ognuno che troverò registrerò bella oh mio dio raga mi sta uccidendo oh mio dio crepa mi stavo uccidendo cazzo volevo registrare però cioè non ci avevo riuscito comunque ok ok allora adesso dobbiamo andare più avanti cioè dobbiamo trovare le altre qui guardate come è buio qui probabilmente ce ne nasceranno un sacco quindi dobbiamo stare anche abbastanza attenti perché ho notato che quel witter toglie anche la fame non solo la vita più velocemente ok raga ci vediamo col prossimo eccolo qui ok è sempre in quel punto dove dicevo io crepa un'altra non ci posso credere un'altra oddio adesso sto morendo sto morendo oh no oh no sto morendo oh mio dio per quanto è andata un'altra raga non ci credo ok raga ci vediamo ancora con altri questa spada forse looting 2 è meglio di looting 3 qualcuno me l'aveva detto nei commenti io non ci ho creduto adesso mi vento ragazzi grazie allora bene ci vediamo dopo ok raga ce n'è uno lì sopra che se ne sta andando da tutte le parti adesso dobbiamo cercare di raggiungerlo allora un blaze sento aspettate e un altro non ci credo se ne sono due allora vicini bene se sai bel como che se me ne da un'altra testa ma è impossibile è troppo raro ne ha date due consecutive ok non capisco come sta a fare là ah ok ha capito tutto sento un blaze meglio bere raga questo qui è l'ultimo che uccido perchè mi sto trovando un sacco mi sono stancato oh mio dio lag oddio aspettate qua non ce la faccio aspettate oh mio dio beh il blaze non mi fa niente sono nella lava 8 minuti di tempo per uscire uffa volevo ucciderlo ok adesso vediamo un po' ritorniamo sopra mi ha spinto giù quel bastardo ritorniamo sopra se non lo troviamo magari di espona se lo troviamo lo uccidiamo è meglio per me ok ok due teste raga vediamo si due teste cioè sono proprio fortunato allora voglio io reader sono sicurissimo che non uccido mi devo fare un'armatura in diamante poi spiegheremo tutti i diamanti oh mio dio ma che sto like questo fuoco addosso adesso il problema è il salire meno male che mi sono portati i blocchi dai facciamo un bel ponte il resto il resto meno male che i blaze non fanno danno in questa pozione adesso crepo di nuovo ah no adesso non devo poter morire se no io lascio lascio minecraft praticamente quante ne avrò uccisi con gli schedi? almeno 20 perchè io ne avrò uccisi anche alcuni praticamente registravo però non penso di metterli si penso di mettere soltanto quelli la buoni diciamo un pochino i primi e poi quelli la che me l'hanno troppato cioè sono soltanto due però oh mio dio ma che il fuoco allevati per favore sono dio io sta laggando brutalmente significa che ci sono i blaze che fanno laggare eccolo lì sta ancora la perfetto adesso creperemo come abbiamo fatto prima forse questi blaze le loro palle incendino ma spingono anche sei minuti vabbè voglia si fanno laggare queste palle oddio sto per cadere di nuovo ancora è il lag che mi fa cadere raga vado nel fuoco tranquillamente muori crepa muori non me l'ha data ok raga adesso torneremo a casa magari trovo qualcun altro ok sto su hard quindi nascono più frequentemente però ho notato in questa fortezza che ho fatto io diciamo cioè ho messo con mc edit e nascono di meno perchè in survival cioè in quell'altro mondo dove la fortezza era originale ne nascevano molti di più su hard intendo bene soltanto nei punti bui diciamo nei punti bui sono quei punti come questi dove nascono più frequentemente qua è molto raro che nascono però lì dentro almeno se state 10 minuti nel nether almeno 2 litro orrite ok la mia casa però sta dall'altra parte guardate c'è la terra quindi ci vediamo dopo ok raga rientriamo trionfanti avviamo le nostre teste guardate quanto carbone ci siamo fatti quante ossa comunque bene le vorrei prendere a un muro però le vedo nere quindi lasciamo stare quindi le mettiamo in una cesta a parte soltanto l'oro scherzo mettiamole qua e uffa lo devo buttare questo ancora una cosa che non ho fatto è l'inceneritore tipo un cactus che lo mettiamo qui sotto dove buttiamo le robe e le distrugge quindi nei prossimi episodi lo faremo dai allora mettiamolo qua così possiamo fare anche un pochino di pulizia questo qui qui questo qua oddio ah si guardate bug del 1.4.4 hanno corretto 120 bug e ce ne sono altri bene ormai siamo abituati allora andiamo a posare queste pozioni e ci vediamo nel prossimo episodio nel prossimo episodio facciamo un pochino di decorazioni facciamo l'inceneritore e poi dobbiamo procurarci la clay e quelle robe e poi vediamo di fare anche qualcos'altro magari possiamo fare un incantesimo al giorno però i diamanti finiscono subito comunque allora usiamo le pozioni resistenza al fuoco lo sapevo benissimo che ce ne erano altre oh mio dio che epic fail no non lo sapevo in realtà comunque era ironicamente questa capo se non ce la teniamo qua bene raga siamo qui e non abbiamo mai utilizzato una freccia comunque abbiamo ancora una pozione si ma è un bug allora non vedo le mie particelle aspettate sono pure su the crescent non so forse dal ritorno al nether si sono buggate probabilmente si tutto buggato sto gioco però hanno corretto quei bug questo bug non c'era prima l'ho scoperto ora sono un genio comunque raga se vi è piaciuto l'episodio per le due teste lasciate un mi piace come sempre e iscrivetevi se è la prima volta che mi vedete sono ms striker e ci vediamo nei prossimi video bella ciao